importante, di cui non ci sono solamente le inchieste e le procure, insomma c'è un aspetto importante che poi riguarda il piano economico delle iniziative prese da questo governo. A me gli esponenti del Partito Democratico che tuonano contro improbabili aumenti dell'IVA fanno tenerezza e sorridere perché loro li hanno votati tutti in passato, gli aumenti dell'IVA. Adesso sta invece parlando di un aumento bilanciato, queste sono state le parole corrette di TRIA qualche giorno fa. Io mi fido del ministro dell'interno Matteo Salvini e del mio partito. TRIA probabilmente è un tecnico ed è stato messo lì perché è un tecnico e dice che c'è bisogno di una revisione al bilancio. Benissimo, però sull'aumento dell'IVA noi siamo assolutamente contrari. Se la politica ha ancora un ruolo in questo Paese e soprattutto la Lega non permetterà ai tecnici di sopraffare i politici come avete fatto voi in tutti questi anni, votando governi tecnici che hanno affossato il Paese e l'hanno mandato in recessione. Veloce, Maiorino, velocissimo che devo andare a piazzare il popolo poi. Il ministro TRIA è quello che gestisce i conti e dice mancano dei soldi e quindi l'unica modo per recuperarli è l'aumento dell'IVA o meglio, diciamo l'unico modo, dice non possiamo impedire l'aumento dell'IVA in ragione delle scelte che sono state fatte. Ma se non si vuole avviarsi in questa strada, che cosa si ha in mente? Perché confesso, altrimenti è inevitabile, cioè al di là di destra a sinistra. Voglio fare intervenire anche Martini che scuoteva la testa perché dice non è esattamente così il concetto. No, il ministro ha detto che senza coperture ci sarà un aumento dell'IVA, ma è una cosa, è un pochino diversa dal dare per acquisito questo aumento dell'IVA. No? Perché noi non possiamo lamentarci giustamente per il tono paradossale, a volte grottesco, dell'elloquio pubblico dei governanti e poi dire, dare per scontato. No, ha detto se non ci sarà copertura. È diverso da dire l'IVA è già aumentata.